allora ragazzi ho fatto anche una storia non è una è un'esercitazione è così ma secondo voi ma gliela faremo, non gliela faremo ma gliela dobbiamo fare ma secondo voi una persona, porco di la madonna va girando per il mondo smoccolando, bestemmiando tutto quanto, no è la coprolalia che fa parte della sento i turretti, no signor non si può sentire, ma chi mi posso sentire, io nemmeno mi posso sentire, mi do fastidio ma purtroppo è così, non colpisce tutti, ha colpito parte delle persone turretti che a me mi ha colpito, qua mi ha colpito qua mi ha colpito, qua di, di, pur io mi posso sentire però purtroppo è così ma gliela faremo porco di la madonna gliela faremo a essere più intelligenti a capire e non sempre giudicare 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 gliela faremo non lo so io spero giudicare giudicare